ed eccoci qua eccoci qua precisiamo a fare cagare sono soltanto gli ultimi cinque episodi perché per i primi 19 era un mezzo capolavoro a i super cofanetti di one piece una sera Leonardo buonasera Manu allora 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 ragazzi in chat buona serata come ve la state passando mentre che aspettiamo che arrivi magari altra gente io smanetto un po' come mio solito sì ho visto il l'ultimo trailer di Bleach e io continuo a dirlo che le voci vabbè voci gli unici personaggi che si vedono parlare nel trailer sono soltanto Ishigo e Rukia quindi diciamo che più che altro le voci non mi convincono granché almeno quelle che ho sentito soprattutto quella di Shigo non mi convince per nulla c'è quel trailer più che un trailer ufficiale mi sembra quasi come se avessi visto un doppiaggio amatoriale su youtube poi per carità uscirà la serie effettivamente avranno fatto un bel lavoro vedremo vedremo ma la mia prima impressione non è particolarmente positiva beh sì ma io bene o male io vorrei sempre vedere sempre molti più doppiaggi italiani per molti più anime poi certo lo bisognerà vedere sempre se scelgono le voci giuste se non fanno casino con l'adattamento per esempio serie come l'ultima l'U-Pen parte 5 o Mayra Accademia io in italiano non li posso vedere né more mai più che altro per quello che hanno combinato con l'adattamento però sì in linea generale sulla carta io quando un anime viene doppiato in italiano specialmente quando un anime che adoro viene doppiato in italiano io sono sempre contento che così ho anche una scusa per potermelo rivedere per poterli rivedere prendesima volta buonasera Askelat buonasera allora sì ho visto un po' degli annunci che sta facendo Star Comics in questi in questi giorni anche oggi ha fatto degli annunci sono contento prima di tutto perché ho visto che Star Comics ha annunciato il manga di Darling in the Franxx e io sono contentissimo non vedo l'ora di mettere le mie mani su quel manga ho visto che hanno annunciato la l'edizione come si chiama l'edizione a saghe del manga di One Piece cioè per chi non lo sa in One Piece esiste un'edizione del manga dove praticamente hanno diviso l'opera in base a tutte le saghe e ogni saga ha i suoi volumoni interamente dedicati a quella saga specifica cioè per esempio ci sono tre volumi di Alabasta poi ci sono i volumi di Skypea e così via per tutte le saghe di One Piece che è un'edizione veramente figa e quanto presta il comics la porterà in Italia e finalmente ho anche io una scusa per comprarmi il manga di One Piece perché effettivamente se devo comprarmi il manga questa edizione è veramente figa è anche bella da vedere quindi sicuramente costerà un botto però ci può stare tra l'altro hanno annunciato anche la Perfect Edition di Die la grande avventura che era uscita in Giappone l'anno scorso e quanto pare la porteranno già in Italia anche anche quella brava Star Comics sta facendo degli annunci interessanti la Perfect Edition di Yinuyasha come anche tu hai detto sa che anche quella prima o poi la dovrò prendere no non so quando uscirà in Italia il film di Demon Slayer purtroppo non lo so stasera ragazzi oltre a vederci insieme il secondo episodio di Shaman King per chi ne ha seguito quando abbiamo visto il primo sapete che non sono stato particolarmente entusiasta dal primo episodio per come lo hanno reso spero che migliori con il tempo ma oggi noi vedremo insieme anche il primo episodio di The World End With You è il episodio di Eden's Zero quindi ditemi ragazzi ragazzi in chat anche voi siete incuriositi da queste altre serie le aspettavate oppure non ve ne fregava non ve ne frega assolutamente nulla caro Askerad manga di Shaman King va assolutamente recuperato assolutamente perché visto la la piega che ha preso anche questo nuovo anime mi sa che effettivamente io speravo che finalmente Shaman King potesse avere la trasposizione anime che merita ma almeno per quello che si è visto nel primo episodio mi sa che ancora non non ci siamo ah è è ovvio che lo conosco altrimenti non starei qui a fare le reaction di questa serie io ho non ho anche il manga io sto fino al volume 8 io tengo Hiromashima è infatti uno dei miei mangaka preferiti in assoluto è uno di quelli a cui io sono particolarmente affezionato per delle mie motivazioni personali per quanto comunque io non mi faccio assolutamente il problema ad ammettere che Hiromashima è un assoluto molto molto mediocre di fatto tra le sue opere l'unica veramente veramente buona secondo me è soltanto Rave il suo primo il suo primo manga che uno shone è veramente molto sottovalutato però comunque lui è diventato famosissimo grazie a Fairy Tale anche Fairy Tale opera a cui io sono particolarmente affezionato ma che comunque obiettivamente parlando è un'opera parecchio mediocre il che ci porta a Eden Zero Eden Zero sembra almeno dai primi volumi praticamente Fairy Tale in space però devo ammettere che a un certo punto in avanti Eden Zero più che con Fairy Tale ha più somiglianze con Rave la prima opera di Mashima e che è molto positiva come cosa e seguendo quello che mi ha detto il mio fumettaro quello dove io compro i fumetti che legge anche le scan di Eden Zero quindi lui sta più avanti rispetto a me mi ha detto che effettivamente Eden Zero sembra essere un'opera che migliora tanto man mano che va avanti e mi ha detto anche un paio di cosine che ci sono sembra sembra è sempre un grandissimo sembra che con Eden Zero Mashima abbia finalmente deciso di fare un qualcosa di diverso rispetto a quello che ci ha sempre abituato potrebbe essere un'opera in cui lui addirittura mette in discussione il suo stile i suoi temi cioè almeno questo è quello che mi ha detto poi vedremo comunque Mashima il suo modo di fare i suoi mondi le sue robe è comunque un attore che a me piace io non vedevo l'ora di vedere l'uscita di questo anime e proprio per questo io spero spero veramente tanto che l'anime di Eden Zero abbia un buon reparto tecnico è la è la prima cosa che chiedo che sia bello da vedere quindi livello di animazione disegni musica eccetera che l'anime di Rave stendiamo velo pietoso l'anime di Fairy Tail a parte le musiche che erano bellissime tutto il resto era più o meno spero che con Eden Zero ci sia un salto di qualità dal punto di vista tecnico è quello che io chiedo principalmente e poi c'è The World Ends With You l'anime tratto dall'omonimo videogioco di casa Square Enix altro videogioco realizzato dallo stesso team di sviluppo di Kingdom Hearts e The World Ends With You che è uno dei più bei videogiochi che Square Enix abbia mai creato chi non l'ha mai giocato vi consiglio davvero di recuperarlo specialmente se avete un Nintendo Switch Puewi è un gioco incredibile per gameplay trama temi eccetera 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 è veramente un gran bel gioco e sono curioso di vedere adesso con la trasposizione animata come come se la gestiscono soprattutto per quanto riguarda dei combattimenti come li andano a gestire nell'anime però gli anime tratti dei videogiochi non sono mai stati chissà cosa ma spero che questa trasposizione di Tuewi sia sia una buona serie anime e che sia una buona alternativa al videogioco perché comunque Tuewi come videogioco è uno stile che non piace che non è per tutti quindi magari una persona che magari si interessa si vuole interessare alla storia di Tuewi dei suoi personaggi però non lo vuole giocare perché non gli piace quel tipo di gioco spero che questa serie di anime possa essere una buona alternativa come lo è un paio di anni fa era uscito per esempio l'anime di Persona 5 che insomma più o meno poteva andare come alternativa ma non era proprio spero che sia una bella serie spero che sia una bella serie sì è ovvio che quando guardi Shiki e quando vedi i protagonisti ti vengono subito in mente Lucy e Natsu purtroppo non soltanto per l'estetica ma anche un po' per la personalità che poi voglio dire ok che nei manga principali di Mashima le protagoniste c'è sempre una coppia di protagonisti il ragazzo e la ragazza lo cavolo Mashima voglio dire con Haru Natsu e Shiki almeno qualche elemento per differirli l'hai messo c'è Lucy e invece le tre ragazze più Lucy e Lucy 2 di Eden Zero entrambe entrambe proprio uguali esticamente pure entrambe bionde cioè non dico tanto ma come hai fatto con i protagonisti maschili fallo pure con le ragazze cambia almeno il colore di capelli almeno quello porca puttana e vabbè Ferry Taylor invece all'anime è stato uno dei primi che io ho visto che porto nel cuore l'anime di Ferry Taylor lo porto veramente nel cuore ma in realtà se tu non lo sai ma è stata annunciata l'anno scorso una serie animata di Kingdom Hearts che uscirà su Disney Plus non si sa ancora nulla cioè di che parla come sarà la trama sarà comunque sarà una serie in computer grafica ma visto che parliamo di Disney mi sa che sarà una computer grafica di alto livello comunque uscirà una serie animata di Kingdom Hearts su Disney Plus non si sa quando non si sa di cosa tratterà ma ci sarà e io sono veramente molto curioso e ovviamente quando uscirà noi ce la vedremo insieme è ovvio che la serie animata di Kingdom Hearts ce la guarderemo in live qui sul canale spero che per allora spero di avere molti più follower di essere in un gruppo un po' più numeroso per poter vedere queste belle cose insieme buonasera a Cars che ci ha raggiunto in live buonasera ovvio cioè ma che domande è ovvio che ovvio che mi prenderò il Blu-ray di Primal ma che domande cioè ovvio allora fra poco iniziamo allora purtroppo Eden Zero è perché cioè c'è molta negatività nei confronti per il semplice fatto che almeno inizialmente per dirlo in poche parole è fairy tale in space io dopo otto volumi è comunque una serie che mi sta piacendo più che altro perché mi piace i luoghi in cui si svolge Eden Zero perché si svolge nello spazio quindi si va di pianeta in pianeta ci sono un paio di idee veramente interessanti comunque spasse lì Eden Zero poi ripeto come mi ha detto il mio fumettavo che sta più avanti perché lui legge le scale mi ha detto che effettivamente Eden Zero più va avanti e più sembra migliorare e sembra diventare un fumetto molto più interessante di quel che sembra quindi io sono sono fiducioso Eden Zero potrebbe diventare tranquillamente la miglior opera di di Mashima non che ci voglia tanto per carità però potrebbe diventare o meno è quello che io spero possa diventare effettivamente un buon un buon shonen così come lo era stato il il rave però Eden Zero il mio sogno sarebbe che possa diventare l'opera che riesca a far rivalutare almeno un po' Mashima agli occhi di quella parte di pubblico che lo critica sempre che gli lancia merda addosso come manco fosse il peggior manga che ha mai esistito però vabbè una sera furia è bella domanda bella domanda più che altro perché si deve capire dove vuole andare a parare tartarkoski con primal cioè finché si trattava di una serie di semplice sopravvivenza no con con lancia e zanna che semplicemente ogni puntata dovevano sopravvivere al nemico della della puntata però con la seconda parte della prima stagione hanno introdotto degli elementi allora vabbè che fino all'inizio si capiva che primal non era ambientato in un mondo effettivamente normale cioè non è una preistoria normale quindi sono veramente curioso di sapere come si evolverà ma non è che andrà avanti poi vabbè è tartarkoski quindi lui ha la mia fiducia al 150% allora adesso iniziamo guarderemo prima Tuewi poi Eden Zero e poi Shaman King se avete qualcos'altro da chiedere qualche domanda cosa fatele adesso o taccete per sempre ne approfitto per ricordare a quelli in chat che mi stanno seguendo e a quelli che magari recupereranno questa live in seguito seguitemi anche su tutti i miei vari social sulla mia pagina facebook su instagram soprattutto sul mio canale telegram semplicemente doc sul mio nuovo canale youtube dove io vado a ricaricare le live di twitch e tra l'altro io fino a questo momento tutte le live di twitch che abbiamo fatto le ho anche ricaricate sulla mia pagina facebook ma adesso che ho aperto il canale youtube apposito credo sia inutile continuare a caricarle anche su facebook vabbè vedremo vedremo quindi se avete qualcos'altro da chiedere dite adesso che poi iniziamo allora nel frattempo preparo la finestra per vedere l'episodio allora c'è qualcosa che non va allora Godzilla vs Kong è senza ombra di dubbio il miglior film di tutto il monster senza ombra di dubbio ma guarda in realtà per quello che doveva essere è molto più che sufficiente i personaggi umani a differenza dei precedenti film non sono particolarmente ingombranti finalmente hanno capito che se ti chiami monsterverse forse sarebbe meglio concentrare le attenzioni su il cazzo di mostri e così è stato è stato un film ricco d'azione dall'inizio alla fine i vari combattimenti tra Godzilla e Kong sono fighissimi Mechagodzilla è fighissimo e il combattimento contro lui quindi sinceramente un film che si chiama Godzilla vs Kong gli ha dato Godzilla vs Kong e anche di più e sono rimasto soddisfatto poi il sottoterra era veramente molto figo la lore del kaiju ma anche proprio a livello di trama ho trovato la trama stavolta già più più semplice ma più chiara e senza svariore zabbuchi di trama forzature come invece nei film precedenti qui un bel blockbuster un bel monster bui veramente veramente bello Godzilla vs Kong mi è piaciuto veramente tanto e probabilmente me lo rivedrò volentieri più volte ora qui però ragazzi mi sta sorgendo un un problema perché non si apre la finestra copia indirizzo link ma lo fa anche con questo oppure anche con gli altri no ecco perché con questo vabbè az più lungo dura quasi due ore quel film più lungo secondo me ha avuto un buon minutaggio non vedo perché allungare il brodo ok allora iniziamo con the world and with you share screen e vediamo un po come hanno realizzato questa serie ah nel frattempo buonasera al nostro Achille che ancora una volta ci ricorda quanto lui non capisca un cazzo di quello che legge grazie Achille vabbè sto scherzando ovviamente ci può stare che il finale dell'attacco dei giganti non ti piaccia non ci sta invece quando definirlo una merda ma assolutamente no soprattutto non ci sta il fatto che tu mi abbia detto di aver venduto tutto il manga solo perché non ti è piaciuto il finale dio dio ricevere vabbè tra l'altro già mi piace ecco questo commento è l'ennesima dimostrazione che tu quando leggi una storia tu non leggi tu sfogli le pagine tu sfogli e non capisci perché i personaggi fanno le robe cioè proprio tu non le capisci proprio non le capisci cioè tu sei lo spettatore che sta seduto sul divano e che ragiona a mente fredda e logica proprio perché stai comodo sul divano e non ti sai per niente immedesimare dei personaggi che guardi a parte che Eren quello che voleva l'ha ottenuto cioè Eren voleva due cose lo sterminio dei giganti e la salvezza dei suoi amici le ha ottenute entrambe le ha ottenute entrambe quindi vabbè non siamo qui per parlare dell'attacco dei giganti ho fatto ieri una live sul canale Twitch di il resto del manga dove abbiamo discusso del finale dell'attacco dei giganti quindi per chi magari non si è recuperato quella live se volete sapere in maniera più approfondita cosa ne abbiamo cosa ci siamo detti sul finale dell'attacco dei giganti il resto è manga su Twitch e trovate la nostra bella live sì lo stile visivo gli piace che hanno mantenuto lo stile estetico del gioco ora vediamo però se questo stile visivo in maniera animata se funziona oppure no ciao Neku non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello, inizia proprio come nel gioco. Neku subito sbattuto in questo mondo. Non sa perché, non sa come, non sa cosa sta succedendo. Ok, bene. Oh, sono pure le osse del gioco. Sarà il caso, magari, di abbassare un po' il volume. Shiki! No, i mostri sono fatti in CGI. Eh, ciao Shiki! Ah, no Askeladd, abbiamo parlato un po' di Godzilla contro Kong. Abbiamo appena iniziato questo. Abbiamo insultato brevemente Achille perché non capisce un cazzo delle finale. Cato dei giganti. Insomma, le solite cose. Oddio! No, vabbè, le osse. Cioè, hanno usato proprio le stesse osse del gioco. Ok, ora si è passato completa CGI anche il combattimento. Ok. Un attimo che qua mi sta... Non credo se è proprio il combattimento che va lento e... No, è probabile che sono io che sto laggando. In che senso un film prevedibile? Cioè, è un blockbuster di intrattenimento. Cioè, è un film che guardi solo per vedere i mostri giganti che combattono. Certamente non è un film che ti guardi per farti le teorie su trame, loro, eccetera. Beh, era un coglione, voglio dire. Il genio che ha praticamente architettato ogni cosa della storia e che alla fine della fiera, alla fine dell'opera, raggiunge il suo obiettivo. Sì, sì, è un coglione. È un coglione. Certo, c'è, vabbè, vabbè. Io ho paura per le musiche, perché queste sono proprio le musiche del gioco. Ho paura che Twitch potrebbe... Ah no, guarda, lo sconto tra Godzilla e Kong è molto equilibrato, in realtà. Non è scontato come sembra, è molto equilibrato e tra l'altro... Che poi si affrontano più volte nel corso del film. E i loro scontri, proprio le scena d'azione in generale con i kaiju, sono bellissime. Sono rese da Dio. Ora, ragazzi, io, per non sapere leggere e scrivere, abbasso ancora un po' il volume, perché con le musiche Twitch non si sa mai. No, che come hanno animato il peluccio è fighissimo. No, che come hanno animato il peluccio è fighissimo. Ah, figa la transizione. Hai sette giorni. No, guarda, Karls, veramente... Twitch è molto fiscale per quanto riguarda il copyright musicale. È molto, molto fiscale. Ok, devo ammettere che questo primo combattimento iniziale... O va bene. E comunque ho apprezzato come hanno reso almeno... Le abilità di Shiki e il primo potere di Neku. Ok, ok. Oh, ma guarda un po' chi c'è. Oh, qui la biazza. E la mia domanda sorge spontanea. Adatteranno tutta la trama del gioco. Vabbè, questa è una prima stagione. Viene la vedrete se poi ne faranno altre. Questa è una prima stagione. È uno dei giochi più belli che Square Enix abbia mai realizzato. È meraviglioso. Fortunatamente nel gioco fanservice era zero. Non ce n'era per nulla. Vediamo l'anime. Ah, ok, già passati il primo giorno. Ok. Tra l'altro quest'anno uscirà... Neo 2 il sequel del primo gioco e io non vedo l'ora di metterci le mani sopra mi piace che le persone che si trovano che non si trovano qui mi piace che le persone normali quelle che non fanno parte del gioco hanno un colore spento sembrano non essere colorati appunto a sottolineare che non si trovano nel gioco Guns non mi è mai piaciuto in generale non mi ha mai preso 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 si non mi ha mai preso 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 no 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 Però la regia è buona La regia però è buona Ah che nostalgia quando Necco era ancora un dito in culo I got my job I got my job ma come un attimo un attimo ma se ci siamo già a questo punto ma sono in più episodio ma che cazzo fermo calma ma sta roba accadeva tipo a metà settimana non al secondo giorno se non ricordo male mica è solo il primo episodio questo no 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 qui già sta sta prendendo una piega un po' differente rispetto al gioco ok Ehi... Ah, le stesse posse che arrivano nel gioco! Ok, questa è carina. Non c'è nessuno. Ok anche qua come per Shaman King vedo una narrazione veramente molto veloce No non hanno saltato nulla il problema è che sti eventi stanno andando abbastanza veloce Ma non si sa se Shaman King avrà altre stagioni Si sa solo che questa serie avrà 52 puntate in totale quindi Ho il serio timore che sarà una stagione unica e questo mi fa paura perché 52 puntate sono troppo poche per Shaman King Ma non è quella che stagione Shaman King sono 35 volumi Shaman King 35 volumi 52 episodi sono troppo pochi beh si 104 episodi sarebbero più che sufficienti assolutamente si solo che il periodo di Shaman King si vedeva chiaramente che andavano velocissimi quindi ho abbastanza paura minchia comunque speravo speravo in una narrazione un po più lenta in questo anime insomma sta andando parecchio spedito cioè siamo già a metà della prima settimana di gioco ed è solo il primo episodio porca puttana a metà della prima settimana a metà della prima settimana sì ma Helsing Ultimate erano solo 10 volumi non 35 e le puntate di Helsing Ultimate duravano 50 minuti l'uno cioè quella serie è la riuscita a trasporre tutto il manga fedelmente senza fare tagli sì c'era un sequel di Shaman King che si chiama Flowers ma che adesso non è più canonico più un paio di spin off Shaman King Superstar Shaman King Garden che esce quest'anno sì c'era un paio di spin off sì c'era un paio di spin off ok alla fine i combattimenti sono abbastanza buoni per come li hanno realizzati sì c'era un paio di spin off sì c'era un paio di spin off sì Yashime è canonico sì anche se comunque Yashime è una roba un po' più diciamo che Yashaime è più che sequel sequel è un po' più come uno spin off perché ha avuto l'approvazione della Takahashi comunque ma è pur sempre una serie che è stata realizzata per festeggiare il decimo anniversario di Nui Yasha quindi è un po' più particolare possiamo dire che si è canonico Yashaime ma alla fine Yashaime è un'opera a sé e quello che succede in Yashaime non va a non va a diciamo creare non va a cozzare con quello che succede in Nui Yasha non va a cozzare e quindi questo primo episodio di Tu Ewi è andato è una roba direi che da questo episodio posso essere tranquillamente sicuro che l'anime non potrà mai sostituire il videogioco così come l'anime di Persona 5 non può assolutamente sostituire il videogioco mi piace che hanno mantenuto lo stile estetico del gioco ci sono le host del gioco quindi ragazzi Tu Ewi è un videogioco che andrebbe giocato anche solo per la musica Tu Ewi ha una delle colonne sonore più belle e più fighe che io abbia mai sentito in un videogioco e soltanto quelle valgono il prezzo il prezzo del videogioco poi per carità oltre alle musiche fighe è figo anche il gameplay la trama i personaggi i temi eccetera 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 è veramente un bel videogioco come hanno reso i combattimenti qua sono abbastanza buoni i mostri fatti in CGI secondo me sono passabili anche perché comunque alla fine i no il Tu Ewi è per Nintendo Switch non c'è per Playstation è per Nintendo Tu Ewi Contato che comunque i noise sono dei mostri particolari forse il fatto che hanno reso i noise in CGI può essere più una scelta stilistica che ci può stare perché i noises sono appunto degli esseri particolari e vederli così si vede che sono mostri non di questo mondo come scelta stilistica la posso anche accettare per i noises ripeto l'unica cosa alla fine che mi ha lasciato interdetto è solo che ha avuto questo primo episodio come Shaman King un ritmo veramente veloce cioè in un solo episodio hanno riassunto se non sbaglio sì sì la prima settimana settimana di gioco che la trama di cioè la trama di Tuewi è divisa in settimane e l'intera trama di tutto il gioco è composta da da tre settimane e con questo primo episodio sembra che siamo già arrivati a metà della prima in un solo episodio vabbè vediamo come si evolverà con con i prossimi episodi andando avanti sperando ovviamente che possa solo migliorare almeno questo è quello che spero adesso adesso tocca a Eden Zero zero Non è vero, perché gli ho detto. Non è vero o che non è vero. Ci sono un'altra cosa, o il Dora, o il Dora, o il Dora. Non lo so che vedo fino a qui. Non ho bisogno di così, così. Se non ci sono i miei, non ci sono mai vero. Sì, quando ci sono qui, ci sono i miei e i miei, e ci sono i miei, e ci sono i miei amici. Cheat the machine, ma. Sì 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 Ok, a livello visivo sembra fatto veramente bene L'altro una delle piccole chicche di Eden Zero è che è è tipo l'unico manga in cui è presente cioè manga shonen battle in cui è presente il concetto di Youtube che è quello che vorrei anche io ma guarda veramente ci sarebbe Plu che praticamente compare in tutti i manga di Mashima solo che almeno a parte Rave in cui è un personaggio principale negli altri fa solo dei Kamei Cioè anche qua ok ok che hai rimesso Happy ma almeno dagli un altro design un altro nome per Dio a me che comunque questo Happy ha una storia diversa rispetto a quello di Fairy Tail però comunque che cavolo ah il famosissimo sempre presente in cui è stata la opera di Mashima l' Herodotija l' 3312 l'3333 l'3433 ha una storia diversa alla famosa un altro nome questa è la famosa l'3433 chi è? questa è l'3433 una storia diversa l'3433 un altro nome Come per dire In otto volumi Shiki Come personaggio Già mi piace più di Natsu Per dire Ma guarda Più che fanservice Il loro primo incontro Ricorda molto quello di Goku e Bulma Se vi ricordate quando Goku Incontra Bulma la prima volta Anche per lui era La primissima volta che vedeva Un'altra persona Oltre al nonno Soprattutto era la primissima volta Che incontrava una donna Quindi Il loro primo incontro Ricorda molto Quello tra Goku e Bulma Sì Natsu Natsu è un personaggio Come protagonista Ma in realtà Il problema di Natsu È che praticamente Non ha nessuno sviluppo In tutta l'opera Cioè Cioè potevi fare Aspetta Allora un attimo Un attimo Un attimo Luffy È un protagonista Della Madonna Nel campo Nel campo shonen Quindi Specifichiamo Non in generale Nel campo Nel campo del battle manga Luffy È uno dei migliori protagonisti Che ci siano Ed è il Protagonista Shonen Perfetto Cioè Luffy È proprio quel personaggio Che incarna Meglio di chiunque altro Le caratteristiche Del protagonista Shonen Anzi Ancora meglio Del protagonista Shonen Jump E E comunque Luffy È un personaggio Che nel corso Di tutto One Piece È comunque Sfaccettato Perché Eh sì È infantile È gioviale È divertente Però sa essere anche Serissimo I momenti Serious Luffy Sono Luffy È realtà È un protagonista Molto più Tridimensionale Di quel che sembra È un protagonista Molto snobbato E molto sottolutato Eh Natsu Proprio Proprio no Cioè Con Natsu Potevano fare Uno sviluppo Veramente Interessante Quando in Fairy Tail Si scopre Si scopre Senza fare spoiler Si scopre Di più Sul suo passato Diciamo così Chi è Natsu Davvero Potremmo fare Un grande sviluppo Così E invece Non si è fatto Veramente Un cazzo Natsu Natsu È un protagonista Molto mediocre Shiki Shiki Già inizialmente È già un personaggio Che già capisci Molto di più Perché si comporta In un certo modo Cioè Allora Shiki È questo ragazzo Che ha vissuto Tutta la vita Su quest'isola Su quest'isola Ci sono Soltanto Robot Sono Quindi Shiki Ha questo carattere Inizialmente Estremamente Curioso Perché lui è curioso Perché Non ha mai lasciato l'isola Non ha mai conosciuto Altre persone Quindi lui Vuole Viaggiare per lo spazio Perché vuole vedere Altri posti Vuole conoscere Tante persone Perché Per quanto lui Comunque su quest'isola Non sia Cresciuto da solo Perché appunto C'erano Tutti Sti robot Che lui Comunque considera Sui amici Comunque Come Essere umano È Da solo Quindi Il suo modo di fare È già più È già un personaggio Che risulta più Interessante Rispetto a Natsu Già A primo Impatto Poi Vabbè Più che brutti Natsu è come poteri È personaggio Classico Cioè È un Pirocineta Cioè I suoi poteri Non è che Si differenziano Tantissimo Da quelli Di Un Ace In One Piece Cioè Controlla Il fuoco La cosa Interessante Di Natsu Poteva essere Il fatto Che Oltre al poter Assorbire Le fiamme Altrui Lui Poteva Assorbire Qualsiasi Forma Di magia Ma Quello È un aspetto Del personaggio Che in realtà Non hanno mai Sviscerato E approfondito Più di tanto Come un semplice Natsu Può Perché Sì Perché Il protagonista Può fare Ste cose Natsu Aveva Del potenziale Aveva Del potenziale Per essere Un buon personaggio Ma Purtroppo Sì Natsu È ovviamente Anche lui Inizialmente Il tipico Protagonista Shonen Ma che A differenza Di altri Rimane così Fino alla fine Cioè Non ha Particolari sfaccettature Non ha uno sviluppo Appunto Quindi È quello Veramente Il problema Di Non solo Di Natsu In realtà Ma anche Di Molti altri Personaggi In Ferdite Non tutti Però Di molti No Sono tutti Robot Su quest'isola Sono Tutti Robot Tranne Shiki Tutti Robot Usha e Tora Sono Usha e Tora Sono dei personaggi Grandiosi Ma così come Usha e Tora In generale È uno dei Manga Shonen Più belli Mai fatti È meraviglioso Usha e Tora Tutti Torni 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 Sato No Sì, Eden Zero è come Star Wars È quel tipo di fantasy È come Star Wars Che è ambientato nello spazio Viaggiano tra i pianeti È quel tipo di fantasy Sì Sì, è il fatto che la stessa È un giorno che mi sembrava Ma ho capito Ma ho capito Ma ho capito Ma ho capito È un luogo Ma ho capito Ma ho capito Ma ho capito Qu'è anche quella del ma ho capito Non avevano per il sogno Ah, sì 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 C'è stato un'ottica Sì, hai paura di nuovo film Ma ho capito Non ricordare un'ottica Adesso voglio fare un dissing Prendendo come riferimento Questo tuo commento Furia rossa Voglio fare un dissing A Ecco pure queste sue reazioni Queste sue reazioni di Shiki no? I miei capelli sono scompati Sono delle reazioni divertenti Di questo personaggio Dicevo Voglio fare un dissing A una parte A una parte del fandom di Naruto Oramai Viviamo in un mondo dove praticamente Ogni shonen che esce C'è quella parte Ma non solo dei fan di Naruto Del pubblico medio Che ogni volta che esce un nuovo shonen Inizia a dire Oh ma è una copia di Naruto Oh ma è una copia di Naruto Oh è una copia di Naruto Jutsu Kaisen È una copia di Naruto Anche se con Naruto Non c'è anche un merito cazzo Ma in Accademia È una copia di Naruto Anche se le somiglianze Sono veramente poche E poche nulle Dottor Stone Io ho letto commenti di gente Che seriamente diceva Che Senku Senku Era come Naruto Che Senku come personaggio Era la copia di Naruto Senku Di Dottor Stone Ma vabbè Lasciamo perdere sta cosa Quindi Tutti a dire Tutti che fanno le polemiche Eh ma quello copia Naruto Quello copia Nuno Quello copia Naruko Però Che Naruto In primis Abbia Scopiazzato Diverse cose Da Hunter Nessuno dice nulla Che Naruto Abbia scopiazzato Diverse cose Da Ushetora Nessuno dice nulla Perché Naruto È incredibile È capolavoro Assoluto Miglior manga di sempre Eh Tutti hanno copiazzato Ha copiato Naruto Anche Dragon Ball Che è uscito dieci anni prima Ha copiato Naruto Quindi Tutto ha copiato Naruto Appunto Leonardo Ma più che la copia di Bleach Jutsu Kaisen è letteralmente Il figlio Di Bleach Cioè L'autore di Jutsu Kaisen Ha affermato più volte Che lui Ha iniziato a scrivere La sua opera Quando leggeva Bleach Cioè Jutsu Kaisen Appunto È un'opera Ispirata A Bleach Si rifà Proprio al lavoro Di Titekubo E infatti I diversi personaggi In Jutsu Kaisen Sono ispirati Dai personaggi di Bleach In primis Gojo Che non ci azzecca Un cazzo Con Kakashi Dio Non ci azzecca Un cazzo Con Kakashi Gojo È palesemente Il figlio Legittimo Di Kisuke Un'area Di Bleach Io A volte Ho come la sensazione Che Una parte Del fandom Di Naruto Non abbia mai visto Bleach imita loro C'è una cosa Incredibile Infatti Titekubo Ha espresso Anche diversi Complimenti Per L'autore Di Jutsu Kaisen Addirittura Qualche Settimana fa Avevano pubblicato Un Dei post In cui L'autore Di Jutsu Kaisen Aveva disegnato Il suo personaggio Preferito Di Bleach Che era Maiuri Se non sbaglio E Titekubo Aveva disegnato Il suo personaggio Preferito Di Jutsu Kaisen Che Che adesso Che adesso Mi sfugge Il nome Aspettate un attimo Chi era il personaggio Preferito Di Titekubo Aspettate giusto Un attimo Titekubo Chiuso Kaisen Chiuso Kaisen Chiuso Kaisen Vabbè Comunque adesso Non mi viene in mente Il nome Del personaggio Disegnato da Kubo Che tra l'altro Ha creato Che tra l'altro Ha disegnato pure Il protagonista Pure Ryu Ha disegnato Lice creator Race Controversio Feminine What the fuck Giusto un momento Che ho letto Una cosa In che senso I protagonisti Vogliono fare Views In che senso No ma comunque Un protagonista Per essere Un buon personaggio Non deve per forza Avere chissà Quali Incredibili Motivazioni Alle spalle Cioè Io In Shaman King Per esempio È uno di quei personaggi Che non ha Chissà quali obiettivi Nella vita Ma è uno Dei migliori Protagonisti Shonen Di sempre Un attimo Che sto leggendo Una cosa Vabbè Niente My brother Il tizio Tutto Muscoli Di Jutsu Kaisen È ispirato A Kenpachi È ispirato A Kenpachi Lo ha Lo ha detto L'autore Ghetto Ghetto Sì Ghetto Era Ghetto Quello che Titecuba Aveva risegnato Ghetto Sì 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 Ghetto Non mi veniva in mente Il nome Tra l'altro Jutsu Kaisen Dove aver completato La prima serie La prima serie anime Mi è piaciuta Veramente tanto E sì Erano Tanti anni Che io Aspettavo Di vedere Il degno Erede di Bleach E finalmente L'ho trovato E Probabilmente Potrebbe diventare Tranquillamente Migliore Del suo Senpai Visto che Jutsu Kaisen L'autore Ha detto Che terminerà Fra giusto Un paio D'anni Quindi Non credo Che arriverà A sminchiarsi Nel finale Come tanti altri Shonen Hanno fatto Almeno questo È quello Che spero Sì Se parliamo Dei protagonisti Tutti i personaggi Di Jutsu Kaisen Sono tutti Comunque Interessanti Chi più Nemmeno Soprattutto I protagonisti A me piacciono Tutti e tre Diciamo Quattro Contando anche Gojo Mi piacciono Tutti e quattro Come personaggi Soprattutto Nobara Spesso e volentieri Nei battle manga I personaggi Femminili Sono sempre Diciamo Un punto Cioè Non sono mai Particolarmente Memorabili I personaggi Femminili Mio dio Nobara Di Jutsu Kaisen È forse Una delle Eroine Principali Shonen Più Interessanti Più fighe Più cazzote E più Memorabili Perché Dio Se è memorabile Nabara Degli ultimi anni Probabilmente Probabilmente Di sempre Perché Dio Se è Figa Quella ragazza È veramente Figa E la gente Che la paragona Sakura Di Naruto Cioè Sakura è una merda È una merda In confronto a lei Cioè Ma Sakura Non c'è nel mondo Mai la personalità Che è Nobara Ma è enorme La personalità Che ha quella ragazza Mio dio Cioè Vabbè Vabbè Chiuso questo piccolo Capitolo di discussione Che però fa sempre bene Riprendiamo Capaci è proprio Il Chad Per eccellenza Capaci è uno dei personaggi Più fighi Più fighi Di sempre Capaci è Capaci Ragazzi Bleach Merita di essere Visto Letto Solo per Capaci E Sakura Sì Sembrava Che Sakura Finalmente Potesse avere Uno sviluppo Degno di nota All'inizio Di Shippuden Cioè Il punto più alto Di Sakura In tutta l'opera È quando Sconfigge Sasori Quello È Il picco Di Sakura Dopo quello È caduta In discesa Libera Fino alla fine E a me Sakura Di Inizio Shippuden Mi piaceva Un sacco Mi piaceva Un sacco La Sakura Di Inizio Shippuden Lo scontro Con Sasori È veramente Figo Ci ho Creduto Veramente Che Potesse Rivelarsi Un ottimo Sviluppo Per il personaggio Invece Così Non è stato Non è stato concordo concordo in pieno concordo a mani basse . . . . . Poi, questo paese è stato un po' di persone e un'altra parte. Ma, quando il piede si è lungo, il loroismo è stato scoperto. Non si è rilassato, non si è rilassato, non si è rilassato, non si è rilassato. Non si è rilassato, non si è rilassato. Ora, il loroismo è venuto, e noi si è venuto a fuori. Il loro momento è venuto. Guardate! Io sono un'altra parte! Sono sempre stessi! E anche qua non posso fare altro che congordare. E anche se non è un amore. No Ah, poi, non l'ho detto prima, un altro motivo per cui Shiki è un personaggio migliore di Natsu è che i poteri di Shiki sono fighissimi rispetto a quelli di Natsu i poteri di Shiki, il poltre di Shiki è dannatamente figo wow per una volta ho visto un anime di Mashima in cui effettivamente un colpo che va a segno e che ha veramente la sensazione del colpo che va a segno ok, ok, animazioni sembrano fighe, animazioni sembrano veramente fighe ok dai, a livello tecnico sembra veramente fatto bene questo anime può essere un'altra cosa che non servono ok, animazioni sembrano 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 Ehm, no Mentre il gnil in fairy tale Era scomparso nel nulla E Natsu lo cercava Lo cercava Tra virgolette Il re demone Qui invece Che ha cresciuto Shiki è morto E Shiki sa che Sa ovviamente che è morto Quindi no, non ha lo stesso ruolo Di gnil Per chi ancora Forse non avesse ben chiaro qual è il potere Di Shiki Gravità Ragazzi Manipola la forza di gravità E da che mondo è mondo La gravità è sempre stata Uno dei poteri più fighi Che si potesse desiderare Ehm... Grazie a tutti. 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 Ma io vorrei anche un sequel manga di Black Torch. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, caro Cars, io ti consiglio di non perderti la mia live di domani, in cui io parlerò proprio di Black Clover, e dove io spiegherò perché oggi Black Clover è uno dei migliori battle manga in circolazione, ingiustamente snobbi. e criticato e criticato e criticato e criticato soltanto per i suoi primi volumi, solo per il suo inizio molto così e così. In sintesi, in sintesi, sì, black clover te lo consiglio, è diventato oggi uno dei battle manga che apprezzo di più attualmente in circolazione. se vuoi sapere, come se vuoi, se vuoi, non farò non farò di più, se vuoi, non farò di più, se vuoi spiegherò mai, cioè, io non farò mai, se vuoi spiegherò un'altra cosa. Se vuoi saperne qualcosa di più, nello specifico, ovviamente non farò nessun tipo di spoiler. ci vediamo domani sempre alle 8 e appunto parlerò di Black Clover grazie a tutti e quella era Mother l'essere citato da Redemone che si dice che chi la trova nell'universo può esaltare qualsiasi desiderio quella è Mother allora sono rimasto assolutamente soddisfattissimo da questo primo episodio di Eden Zero chi è sta cennona grande Boris allora sono rimasto veramente più che soddisfatto e porca allora mi piacciono molto i disegni sembra essere fatto bene anche l'animazione almeno il primo assaggio di scena d'azione e scontro di prima era fatta veramente bene quando Shiki dava un pugno sembrava veramente cioè si vedeva l'impatto del colpo che arrivava non come in Fairy Tail che praticamente i colpi non hanno nessun tipo di impatto però vabbè il ritmo buono a differenza di Shaman King o di Two Way prima il primo episodio ha avuto un ritmo veramente perfetto è iniziato è finito per essere proprio il primo episodio bene benissimo sono veramente soddisfatto questa prima stagione di Eden Zero avrà 25 episodi è già stato ufficializzato 25 episodi quindi più o meno verso che volume potrebbe arrivare 25 episodi credo potrebbe effettivamente arrivare tipo al volume volume 7 forse volume 7 volume 7 8 forse 25 episodi allora essendo un'opera di Mashima il Nakama Power comunque l'amicizia come credo si sia già visto da questo primo episodio è comunque un tema ricorrente però finora in 8 puntate il Nakama Power non l'ho ancora visto in Eden Zero cioè non c'è i personaggi che grazie al potere dell'amicizia diventano più forti a robe no i personaggi di Eden Zero sono effettivamente forti sono veramente forti e almeno finora tutti i combattimenti che hanno avuto li hanno vinti con le loro forze poi sempre da quello che mi ha detto il mio fumettaro c'è una parte più avanti in cui in realtà sembra sembra che Mashima dica ai suoi lettori che in Eden Zero il Nakama Power non serve a un cazzo non so bene questo cosa significhi ma è è quello che mi ha detto il mio fumettaro a un certo punto c'è un momento in cui praticamente l'opera ti dice qui il Nakama Power non funziona non serve a nulla quindi in un'opera di Mashima una roba del genere cioè Mashima che praticamente rinnega la sua stessa filosofia wow wow beh Kuro è uno dei miei più grandi amici su Youtube è stato la prima persona con cui ho stretto l'amicizia su Youtube e siamo ancora amici tuttora oggi e io ho sempre apprezzato i suoi contenuti bene o male mi sono sempre trovato abbastanza d'accordo sulle cose che ha detto l'unica volta in cui mi sono veramente trovato completamente in disaccordo è stato il suo video su Demon Slayer quella è stata l'unica volta in cui io veramente non condividevo assolutamente nulla di quello che disse in quel video ma a parte quello comunque sì bene o male andiamo molto d'accordo per quanto riguarda le nostre opinioni a parte anche il fatto che lui adora Walt Trigger e a me invece Walt Trigger faccia altamente cagare ma questa è un'altra questione secondo episodio di Shaman King ora possiamo rialzare un po' il volume di Shaman di Shaman Sì anche con Anche su Kenganashura Sono completamente in disaccordo con lui Pure su Kenganashura Ma Lui alla fine Di Kenganashura Ha letto soltanto il primo volume Che io sappia Ha letto solo il primo volume di Kenganashura Quindi Mentre per quanto riguarda Toriko Toriko non piace nemmeno a me Quindi Non mi è mai piaciuto Toriko Ciao Ren Noi 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 Grazie per la visione Cioè la scienza che è proprio l'unico elemento veramente realistico al 100% in Dr. Stone Ragazzi su YouTube trovate video di scienziati chimici, roba eccetera eccetera Quindi professionisti del settore che fanno le reaction di Dr. Stone E commentano proprio in maniera positiva quanto dal punto di vista scientifico Dr. Stone sia accurato al 100% E se lo dicono quelli che lo fanno di mestiere Sarà vero, porca puttana Vabbè sì Tutto il resto a parte la scienza Dr. Stone è ovviamente non realistico Cioè parliamo di un cazzo di manga la cui trama è che gli umani si sono pietrificati Si sono risvegliati in una nuova età della pietra Che cazzo di realismo vuoi trovare? Cioè che realismo vuoi trovare Dr. Stone Cioè su casa che quando viene risvegliato mette K.O. un leone con un pugno È volutamente esagerato nei suoi modi di fare Ma è un cazzo di manga Cioè è ovvio Appunto l'unico momento in cui si prende davvero sul serio È solo quando ci sono appunto tutti gli elementi scientifici In cui Senku si mette a spiegare Come fa a creare tutte le robe Con tutti i procedimenti, materiali, eccetera 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 Ciao Bazon Ma quanto è figo Bazon Ah Musica E' Eeeh, è vero. Non mi è piaciuto. Che cosa? Chiunque non è solo Shaman, non è solo io. Shaman è molto in questo mondo. E' vero, perché lui ha preso il tuo Amidamaru? Non è vero? Amidamaru? Hmm... Gen, non lo so. Non ho mai parlato di Shaman. Ragazzi ma a voi L'episodio vi sta andando a scatti Ah questa è una versione remixata Di una delle host della prima serie anime Cioè a me qua Mi sta andando completamente liscio Però io vedo che a voi si sta andando a scatti Porca puttana Ehm Ma ti No No Anche l'altra volta L'altra punta di Shaman King Dava non pochi problemi Vinchia ma quanto va a scatti Porca puttana Ma tantissimo Farmi provare a fare Un'altra cosa Proviamo così Ok adesso Sembra che non vi vada più a scatti Me lo confermate? Ok Comunque anche 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 qua Come nella prima serie anime Vedo che hanno tagliato di nuovo La storia con il fantasma dell'insegna Il pugile E l'incendio Che per carità Erano tre storie tagliabili Perché erano delle Piccole storie Come non c'è l'audio Ma si sente basso O proprio O proprio non lo sentite Non c'è l'audio E che come va Con di Eh Allora devo fare Devo fare per forza così Se faccio così Come fare Come fare Come fare Proviamo così Come fare Allora Stavo dicendo prima Hanno tagliato Quelle tre storie Che per carità Sono tagliabili Ma erano comunque Delle storie Che ti facevano capire Meglio Qual è effettivamente Il combito di uno sciamano Ti facevano capire Come Io Come persona E come sciamano Quindi Erano comunque Delle storie carine Delle storie carine ok niente ragazzi la voce di io veramente non riesco a non riesco a reggerla non la reggo cozza troppo cozza veramente troppo no ma quanto è figo Bason mamma mia ecco per esempio la voce di Ren già mi piace di più però non mi piace che la versione spirito di Amidamaru l'hanno fatta rossa cioè blu era meglio perché poi andava in contrasto con Ao che invece era rosso non è vero ma non è vero Non c'è il mio figlio! Ma non c'è il mio figlio! Ma non c'è il mio figlio! Il mio figlio è il mio figlio! Non c'è il mio figlio... Ma è molto più facile da qualsiasi! Ora, la mia capacità di farciare a te metterciare! C'è il mio figlio? Ma cosa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque sembra che a livello di musiche anche la host che c'è adesso è molto figa. Quanto avatar questa host però è molto leggenda di corra questa host. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo autunno, durante l'autunno, uscirà su Netflix, quindi... Ed è in zero doppiato in italiano? O semplicemente sarà sempre sottitolato come fairy tale del resto? E tra l'altro anche Shaman King, questo anime qua, arriverà sempre su Netflix. Nel caso di Shaman King, spero, spero veramente tanto in un doppiaggio italiano. Grazie a tutti. Eh, ma fai benissimo Askeladdor, perché Shaman King è un capolavoro. Shaman King è un... non è un capolavoro. 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 Ma se, se questo è un vero, se si apprende il corpo dal Shaman King. Shaman King. Ryo! 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 Che! 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 No, Che! Che! Sì, non è vero, non è vero, non è vero. levati barra di questa frase ascoltare la mia musica preferita e vivere tranquillamente mi basta così questa frase che è molto più profonda di quel che sembra e per me è forse una delle più belle frasi mai dette da un protagonista in un manga sì a livello di proporzioni corporee questo anime ci sta regalando delle delle belle cose comunque questa frase di io è veramente molto ricca di significato veramente molto bella che diciamo un po riassume parte di quello che io è come persona ma non solo come persona proprio il suo modo di fare di vivere di pensare beh l'ho sempre detto più volte io è un grande protagonista non come nel vecchio anime che agli bambini gli facevano dire voglio diventare una rock star una serata ma non sono Grazie per la visione! Ok, ripeto, le host in questo anime sono veramente fighe Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ragazzi, attenzione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! La serie normale di Shaman King sono 35 volumi, la Perfect sono 27 Questi primi episodi praticamente sono il primo volume della Perfect Ok, due episodi per un volume... Eh, cazzo, siamo lì più o meno... Se continuano così fino alla fine che fanno due puntate per ogni volume... La Perfect sono il primo video... Questa serie avrà 52 episodi... Mi sa che questa serie continuerà ad avere un ritmo bello veloce... continuerà ad avere un ritmo bello veloce... Ma già in queste prime due puntate hanno già tagliato delle cose... Cioè, prima dell'incontro con Renna... Nel manga c'erano tre piccole storie... Dove si vedeva io che risolveva i problemi di tre spiriti che incontrava lì per la città... Tre piccole storie che, come ho già detto prima, sono tagliabili... Non è nulla di importante o chissà quanto... Ma erano comunque delle storie carine perché servivano per farti capire a te lettore... Qual è effettivamente il ruolo degli sciamani e com'è io, come sciamano e come persona lui... Avrei preferito che non le tagliassero, però... Era una roba tagliabile... Sicuramente taglieranno altra roba per far rientrare tutto in 52 episodi... Allora, lo stile estetico dell'anime mi piace... I disegni però non sempre sono un granché... E come vi ho detto prima, spesso le proporzioni dei corpi... Però mi piacciono le musiche... Le musiche mi stanno piacendo veramente tanto... Già tra questo e il video scorso c'erano già un paio di tracce... Veramente molto molto fighe... Ho visto le prime due stagioni... Aspetto con tanta impazienza la terza stagione... Ma in realtà se mi seguivi anche su YouTube... Quando ho fatto il mio video del Golden Doc... E cioè i premi per le migliori serie animate non giapponesi del 2020... Shiso 7 è stata una delle serie che ho premiato di più... È stata una serie che ho anche inserito nella mia classifica... Nelle migliori serie animate del 2020... Quindi sì... Shiso 7 è una serie che mi piace tantissimo... Per chi non l'ha mai vista l'altra volta su Netflix... È veramente figa Shiso 7... E... Magari potremmo vedere insieme la terza stagione su... Quando uscirà... Potremmo vederlo in live... Però si sono... Si sono... Dovrei fare magari un rewatch... Per chi non l'ha visto... In diretta... Su... Ci penserò... Poi magari ci penserò di... Baki... Non mi è... Non mi ha mai catturato... Avevo iniziato a leggerlo un pochino... Ma non mi aveva mai catturato Baki più di tanto... Al contrario di Kenganashura... Che invece... Io ho già letto tutto il manga di Kenganashura... E mi... È veramente figo... Kenganashura... Per chi cerca... Una serie... Di pura azione... È veramente figo... I combattimenti... Il fatto che tutti... I combattenti... Sono tutti diversissimi fra di loro... Ognuno con i suoi stili... La serie... L'opera ti spiega anche bene... Come funzionano tutti quegli stili di combattimento... Poi ci sono comunque anche diversi momenti... Anche... Molto drammatici... Interazioni di alcuni personaggi... È un bel fumetto Kenganashura... La serie anime... Poteva essere una figata... Se solo non fosse stata fatta in CGI... Però... Kenganashura è un bel... È un fumetto veramente figo... Allora... Detto questo... Io ringrazio tutti quelli che hanno seguito... Anche questa live... Tutti quelli che magari la recupereranno... In seguito... Vi ricordo sempre tutti i miei social... Troverete questa live sul mio... Anche ricaricata... Nei prossimi giorni... Anche sul mio canale nuovo YouTube... È semplicemente doc... Live... Noi ci vediamo domani... Su Twitch... Sempre alle 8... E l'argomento della live... Sarà... Black Clover... Grazie a tutti... Buona serata... Noi ci vediamo... Domani...